Il CGA, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, a sezioni riunite, ha accolto il ricorso del Comune di Agrigento contro alcune prescrizioni imposte dall'Assessorato Regionale Territorio e dell'Ambiente all'atto dell'approvazione nel 2009 del Piano Regolatore Generale e del Regolamento Edilizio adottati dal Consiglio Comunale. La più rilevante delle prescrizioni riguardava la zona territoriale omogenea C4 destinata ad accogliere l'insediamento di oltre 3.200 abitanti attraverso la realizzazione di case unifamiliari con orto su lotti a 20 estensione minima pari a 2.000 m2 e con un indice di densità territoriale pari a 0,20 m3 m2. Inoltre, a mezzo di un'ulteriore prescrizione, il competente Assessorato Regionale riteneva di eliminare la previsione relativa alla realizzazione di un parcheggio in Contrada San Biagio e la bretella di collegamento tra la strada comunale Mosella e la zona di Cozzo Mosè. Si attende adesso l'adozione del decreto del Presidente della Regione che disporrà il formale accoglimento del ricorso straordinario a seguito del quale verranno meno tutte le modifiche apposte in sede regionale allo strumento urbanistico del Comune di Egregento che acquisterà la sua piena vigenza per come era stato adottato dal Consiglio. Soddisfatto il Sindaco Marco Zambuto. Alla luce di questo parere, che sottolineo si tratta di un parere vincolante, perché quindi si sblocchi la situazione, si ritorni al piano regolatore generale adottato dal Consiglio Comunale che poi ha rappresentato e rappresenta la volontà popolare, la volontà del territorio Agrigentino, perché finalmente si sblocchi dal punto di vista urbanistico la pianificazione di un territorio che per troppo tempo ha aspettato l'esito di una procedura burocratica e amministrativa fin troppo lunga.